Un mix di eroina e alcol potrebbe essere stato questo, uccidere Andrea Rapanotto, il 28enne trovato morto all'alba di Capodanno nell'area del Parco Nord, nella stessa zona e sempre la scorsa notte è stato accoltellato un tunisino. Bologna perde in un colpo 20 posizioni e scivola al quarantesimo posto, brutte notizie dalla classifica sulla qualità della vita pubblicata da Italia Oggi, ma sorprende il fatto che poche settimane fa un altro quotidiano aveva piazzato la nostra città in vetta alla graduatoria. Il personale amministrativo scarseggia e i computer sono di seconda mano, in questo modo il lavoro dei magistrati viene rallentato. A lanciare il grido d'allarme è il procuratore capo di Bologna, Roberto Alfonso. Un vecchione di Capodanno con le sembianze di Berlusconi ha fatto scoppiare la polemica Ozzano-Emilia, il PDL non ha gradito e ora il caso diventa nazionale. Pronti? Un esposto e un'interpellanza in Parlamento. Il bel tempo non aiuta a migliorare la qualità dell'aria. Il Comune di Bologna ha confermato il blocco del traffico previsto per mercoledì 4 gennaio, colpa delle polveri sottili, il cui livello limite a dicembre è stato superato quattro volte in sei giorni. Buonasera dalla redazione di ETG, lo avete sentito dai titoli, la cronaca apre il nostro telegiornale, proseguono gli accertamenti della polizia sulla morte di Andrea Rapanotti, il ragazzo di 28 anni trovato senza vita all'alba del primo dell'anno in un parcheggio di via Stalingrado. Ormai sembra certo che il giovane avesse assunto eroina, intanto si è saputo che nella stessa zona e sempre nella notte tra il 31 e l'1 c'è stato un accoltellamento. Federico Balletti. Solo l'autopsia che il PM Alessandra Serra farà eseguire a breve dirà cosa sia davvero successo ad Andrea arrivato a Bologna dalle Marche per passare la notte di Capodanno e morto all'alba di ieri in questo parcheggio di via Stalingrado. Forse un mix di eroina bianca e alcol che gli ha provocato un arresto cardiocircolatorio. A confermare questa ipotesi alla polizia è stato un amico di Andrea Rapanotti, l'operaio marchigiano di 28 anni, trovato morto all'alba di Capodanno in un prato nell'area del Parco Nord. L'amico ha anche detto di avere perso le tracce di Andrea nel corso della nottata e infatti a trovare il suo corpo riverso a terra. Sono stati alcuni passanti, forse partecipanti ai diversi parti organizzati nella zona. L'Estragon, uno dei locali dove erano in corso feste di Capodanno, ha staccato la musica con ore di anticipo rispetto al previsto quando gli organizzatori hanno saputo della tragedia. Ma la discoteca precisano nulla a che fare con l'accaduto. Una delle circostanze che gli investigatori stanno valutando è appunto se Andrea abbia o meno preso parte a queste feste. Intanto la procura ha aperto un fascicolo per morte come conseguente di un altro delitto e ha disposto l'autopsia. Di certo quella notte l'area del Parco Nord era affollatissima. Solo oggi si è saputo di un altro episodio avvenuto forse nelle stesse ore. Un tunisino di 31 anni è stato trovato ferito con un'arma da taglio che lo ha colpito al braccio sinistro in un fossato nell'area di via Stalingrado. Sarà disposta domani dal pubblico ministero Alessandra Serra l'autopsia per fare luce sulla morte di due anziani coniugi trovati senza vita mano nella mano a Granaglione nell'appennino bolognese. Eliseo Marconi e Giovanna Vivarelli di 89-84 anni erano nel loro appartamento regolarmente chiuso e senza segni di effrazione. Un'ipotesi al vaglio dei carabinieri che hanno avviato indagini è che l'uomo malato da tempo sia morto di morte naturale e che la moglie abbia deciso di suicidarsi con un'iniezione procurandosi un'overdose di farmaci. I due abitavano soli e non avevano figli. Si fa più pesante il bilancio delle zuffe avvenute a Bologna nelle ore intorno alla notte di Capodanno. Oltre ai sette feriti per i botti in Piazza Maggiore ad alcuni stranieri denunciati per una rissa a bottigliate sempre in piazza alcuni altri episodi sono avvenuti in centro e in zona universitaria. In via dei Bibiena a ridosso di Piazza Verdi la polizia ha arrestato un diciottenne marocchino che verso le 5 di ieri mattina ha aggredito a bottigliate il titolare di un bar che non voleva dargli da bere visto che era già ubriaco. Il barista è finito al pronto soccorso dove ha ricevuto sette punti di sutura. Un altro marocchino di 34 anni è stato invece denunciato dopo essersela presa con il gestore di una gelateria in via indipendenza anche qui perché il commerciante non voleva servirgli alcolici. Brutte notizie dalla classifica sulla qualità della vita pubblicata dal quotidiano Italia Oggi. Bologna perde in un colpo 20 posizioni e scivola al quarantesimo posto. Però sorprende il fatto che poche settimane fa un altro quotidiano aveva piazzato proprio la nostra città in vetta alla graduatoria sempre sulla qualità della vita. Andiamo a sentire Federico Balletti. Per Trento è una conferma. Per il secondo anno consecutivo si piazza al primo posto nella classifica sulla qualità della vita pubblicata dal quotidiano Italia Oggi ed elaborata all'Università La Sapienza di Roma. Questa volta la novità è che l'Emilia Romagna, tradizionalmente in vetta a queste graduatorie, non sembra comportarsi particolarmente bene. Reggio Emilia e Parma sono le uniche a conquistare la top ten rispettivamente col quinto e settimo posto. Decisamente male invece Bologna che in questa classifica è addirittura quarantesima, perdendo 20 posizioni seguite in regione solo da Rimini, fanalino di coda dell'Emilia Romagna al cinquantacinquesimo posto. Un po' meglio altre città come Ravenna, diciottesima, poi Modena e Forlì rispettivamente al ventiquattresimo e venticinquesimo posto e Ferrara al trentunesimo. La metodologia è rinnovata rispetto al passato ed è caratterizzata da nove parametri di analisi. Affari e lavoro, ambiente, criminalità, disagio sociale e personale, popolazione, servizi finanziari e scolastici, sistema salute, tempo libero e tenore di vita. La qualità della vita osservata da Italia oggi nel 2011 è caratterizzata in generale dal dato, forse un po' scontato, che la crisi economica ha portato a un peggioramento complessivo della qualità della vita, ma nel dettaglio, oltre alle consuete differenze fra nord e sud, si assiste a un peggioramento che colpisce il nord-ovest rispetto al nord-est. Come sempre queste classifiche fanno discutere e vanno prese, come si dice, con le molle, soprattutto quando danno risultati molto diversi anche a breve distanza di tempo. Un esempio, appena un mese fa Bologna, qui quarantesima, era il primo posto nella graduatoria sulla qualità della vita pubblicata dal Sole 24 Ore. Inizia un nuovo anno e il procuratore capo di Bologna, Roberto Alfonso, si ferma per fare una riflessione sui 12 mesi appena trascorsi e sulla situazione della procura che dirige, ogni giorno più affaticata dalle carenze di personale amministrativo e con computer di seconda mano. Tutto questo rallenta il nostro lavoro, dice Alfonso, però i sostituti lavorano tanto e non possiamo lamentarci dei risultati raggiunti in questo 2011. Abbiamo tre assistenti per quattro magistrati, spiega Alfonso, che da mesi deve fare i conti con una personale di appena 94 unità, quando l'organico ne prevederebbe 117 e fino a qualche anno fa erano ben 140. L'auspicio per questo nuovo anno, spiega Alfonso, è quello di riuscire a risolvere una volta per tutte la questione dei carichi di arretrato rimasti in sospeso all'ufficio udienze, all'ufficio esecuzioni e a quello che si occupa del pagamento degli onorari di consulenti e periti. Per smaltire questi arretrati la procura è stata costretta a dedicare personale apposito che ha portato avanti questo lavoro e non ha potuto così farne altro. Dobbiamo usare le risorse che abbiamo, di nuove dal ministero, non ne arriveranno di certo, precisa il procuratore capo. Nei prossimi mesi arriveranno sotto le due torri due nuovi magistrati che andranno a completare l'organico previsto per Bologna. Lascerà invece il capoluogo emiliano, il PM Lorenzo Gestri, trasferito a Firenze. La cronaca, un uomo di 48 anni è morto stroncato da un arresto cardiaco mentre viaggiava con la moglie su un treno regionale Bologna-Porretta-Terme. L'uomo ha accusato il malore questo pomeriggio, poco dopo la partenza dal capoluogo emiliano e la moglie ha dato immediatamente l'allarme e il convoglio è stato fatto ritornare indietro. In stazioni prime a soccorrerlo sono stati gli agenti della Polfer con il defibrillatore portatile in dotazione all'ufficio di polizia. Subito dopo sono arrivati anche i medici del 118 ma per l'uomo purtroppo non c'era più nulla da fare. Anno nuovo ma per certi versi vita vecchia. Torniamo a parlare infatti di smog. Infatti a Bologna a fine dicembre la soglia delle PM10 è stata superata per ben quattro volte in sei giorni e per questo Palazzo d'Accursio ha deciso di confermare il blocco del traffico per mercoledì 4 gennaio. Andiamo a vedere. Secondo le ultime rilevazioni dell'ARPA la situazione ambientale e sanitaria a Bologna continua ad essere critica e così il Comune conferma il provvedimento di blocco della circolazione anche per mercoledì 4 gennaio. Negli ultimi giorni di dicembre la soglia massima di PM10 è stata superata per quattro volte arrivando al sessantasettesimo sforamento annuo rispetto ai 35 consentiti. La scelta di anticipare il blocco per risultare il più possibile efficace è stata assunta in sintonia con gli altri comuni coinvolti nell'accordo regionale per la qualità dell'aria come concordato nella riunione del 16 dicembre scorso. Dunque il 4 gennaio stop alla circolazione dalle 8.30 alle 18.30. In testa la classifica negativa stilata da Lega Ambiente sulla base di dati ARPA c'è Parma con 92 giornate di sforamento, poi Modena, Reggio, Emilia, Piacenza, Rimini, Ferrara, settima Bologna con 68 giornate di sforamento seguita da Ravenna e Forlì, quest'ultima con solo 47 giornate. Per Lega Ambiente le reazioni dei comuni e della regione sono state ancora una volta deboli e contraddittorie. Come cita anche il sito dell'ARPA l'aumento delle concentrazioni delle PM10 è direttamente correlabile all'aumento di ricoveri ospedalieri e di patologie per cause respiratorie vascolari, quindi i blocchi devono essere mantenuti ed estesi ad ampie aree della città riducendo al minimo le deroghe. In questo una menzione di coraggio va al comune di San Lazzaro di Savena che pur avendo meno di 50.000 abitanti dal 2004 ha aderito all'accordo di programma sulla qualità dell'aria. Insomma per Lega Ambiente la lotta allo smog si fa nel lungo termine con i piani regolatori e sulla scelta degli investimenti infrastrutturali. Sta diventando un caso nazionale il rugo del vecchione organizzato per Capodanno a Ozzano Emilia, le porte di Bologna. Alla proloco che organizzava la festa aveva pensato di aggiornare la tradizione dando al pupazzo da bruciare il volto di Silvio Berlusconi con tanto di bandana in testa. I dirigenti locali del PDL si sono arrabbiati, qualcuno ha anche chiamato i carabinieri che hanno consigliato alla proloco di mascherare il volto dell'ex premier, cosa che sarebbe stata fatta solo in parte coprendo la fisionomia ma lasciando la bandana. Gli organizzatori il sindaco PD di Ozzano, Loretta, Masotti hanno parlato di una iniziativa ironica che non voleva offendere nessuno ma il PDL pare non accettare questa giustificazione. C'è già un esposto contro i gnoti presentato ai carabinieri e adesso la vicenda finirà addirittura in Parlamento. Il deputato Fabio Garagnani ha infatti presentato un'interpellanza al governo parlando di concezione eversiva che da una parte della sinistra bolognese ha da sempre nei confronti dell'avversario politico. Cambiamo argomento, scatta giovedì 5 gennaio in Emilia-Romagna la stagione dei saldi invernali fino al 4 marzo e per l'occasione riparte anche l'iniziativa di Confcommercio, Ascom, Bologna, saldi tranquilli e questo per la massima trasparenza proprio per i consumatori. Però insomma ci sono opinioni divergenti sul fatto che questi saldi andranno bene e perché alcuni pensano infatti che sarà una stagione positiva altri invece parlano addirittura di autentico flop. Sentiamo. Al via giovedì 5 gennaio in tutta l'Emilia-Romagna la stagione dei saldi invernali destinata a chiudersi il 4 marzo. In occasione delle svendite riparte anche l'iniziativa di Confcommercio, Ascom, Bologna, ribattezzata a saldi tranquilli e destinata a garantire la massima trasparenza per i consumatori. La data del 5 gennaio come avvio dei saldi è stata scelta per uniformare il più possibile a livello nazionale il giorno di partenza per gli sconti. Confcommercio, Ascom, Bologna è ottimista e prevede per quest'anno un'ampia offerta di sconti interessanti e questo potrebbe anche rappresentare il tanto atteso segnale di inversione di tendenza secondo il numero uno dell'associazione Enrico Postacchini. In base a una stima dell'ufficio studi di Confcommercio su scala nazionale, con le svendite invernali ogni famiglia spenderà in media 403 euro per l'acquisto di capi d'abbigliamento e accessori, pari a 6,1 miliardi di euro, cioè il 18% del fatturato annuo del settore, una stima più o meno sugli stessi livelli dell'anno scorso. In media, secondo la stessa indagine, ogni persona spenderà 168 euro, un'ipotesi che però viene giudicata ottimistica dalle associazioni dei consumatori, mentre per Confesercenti i commercianti si attendono una leggera flessione. Il Codacons, al contrario, prevede un clamoroso flop per i prossimi sconti stagionali, sostenendo che solo il 40% delle famiglie potrà permettersi qualche acquisto e la spesa pro capite si attesterà sui 110 euro, così da portare, in base ai primi risultati emersi da una propria indagine, un calo delle vendite che raggiungerà quota meno 30% rispetto ai precedenti saldi invernali. Restano intanto valide le regole d'oro per evitare bufale, a partire dall'indicazione obbligatoria per il negoziante del prezzo, quello normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale. Ci fermiamo per un primo stacco pubblicitario, restate con noi perché ci sono altre notizie. Di nuovo in studio con TG, prima di proseguire andiamo a rivedere i titoli principali di oggi. In apertura del nostro telegiornale La Cronaca, un mix di eroina e alcol potrebbe essere stato questo, a uccidere Andrea Rapanotti, il 28enne trovato morto all'alba di Capodanno nell'area del Parco Nord. Nella stessa zona e sempre la scorsa notte è stato accoltellato un tunisino. Bologna perde in un colpo 20 posizioni e scivola al quarantesimo posto. Brute notizie dalla classifica sulla qualità della vita pubblicata da Italia Oggi, ma sorprende il fatto che poche settimane fa un altro quotidiano aveva piazzato la nostra città in vetta alla graduatoria. Il personale amministrativo scarseggia, i computer sono di seconda mano, in questo modo il lavoro dei magistrati viene rallentato. A lanciare il grido d'allarme il procuratore capo di Bologna, Roberto Alfonso. Un vecchione di Capodanno con le sembianze di Berlusconi ha fatto scoppiare la polemica a Ozzano Emilia. Il PDL non ha gradito e adesso il caso diventa nazionale. Pronti, un esposto e una interpellanza in Parlamento. Il bel tempo non aiuta a migliorare la qualità dell'aria e il Comune di Bologna ha confermato il blocco del traffico previsto per mercoledì 4 gennaio, colpa delle polveri sottili, il cui livello limite a dicembre è stato superato quattro volte in sei giorni. E rientriamo in studio per parlare di teatro, perché continua infatti l'instancabile attività dei teatri della nostra regione, soprattutto sotto le feste e in particolare per i più piccoli. Al Testoni Ragazzi infatti il 6 gennaio arriva alla ricerca della Befana, ovviamente per il pubblico più piccolino. Sentiamo. Il 2012 al teatro Testoni Ragazzi di Bologna inizia in compagnia della Befana, per meglio dire alla ricerca della Befana e sarà una giornata molto intensa quella del 6 gennaio, per l'appunto dedicata a questa vecchia signora. Ed è una giornata intensa che coinvolge i bambini in diverse fasce orarie. Si va dalle 10 a mezzogiorno e dalle 16 del pomeriggio fino alle 18. Cosa succede? È una giornata lunghissima. È una giornata lunghissima perché la ricerca della Befana non è così facile. Bisogna arrivare al teatro Testoni, ragazzi, e portare un calzino in cui inserire dentro i vari indizi che verranno sparsi per tutto il teatro. E sarà possibile per i genitori, per i propri bambini, andare proprio come una grande caccia al tesoro, a cercare gli indizi che porteranno poi, forse, se si è bravi, a trovare la Befana e a vedere che cosa nasconde nella sua cesta. È il giorno, è il 6 di gennaio e siete tutti invitati a vivere con noi questa giornata particolarmente bella. Alla ricerca della Befana è consigliato per bimbi sui tre anni, ma se un bimbo ha un fratello di cinque anni va bene lo stesso. Va bene per tutte le età, va bene per i babbi, va bene per le mamme, va bene per chiunque. È una grande caccia al tesoro e un'occasione anche per esplorare tutti i luoghi segreti del teatro che saranno aperti e accessibili, cercando la Befana. Siamo allo sport con il calcio, si apre ufficialmente domani il calcio a mercato, però ci sono già alcune indiscrezioni su alcuni probabili arrivi proprio nel Bologna. Allora, sentiamo un commento di Giofranco Civolani. Bel colpo, bel colpo del resto del Carlino che annuncia l'arrivo a Bologna del giovanissimo 18-19 anni uruguayano Bueno. Ora, di questo si sa solo che l'ha portato a Betancourt, l'agente di Ramiret, che dovrebbe prendere da subito o comunque dall'anno prossimo il posto di questo Ramiret che probabilmente partirà. È un trequartista, gioca nel Nacional di Montevideo, società che già in altri tempi ha dato al Bologna eccellenti giocatori e il problema di Bueno è quello del passaporto perché lui è extracomunitario finché Gimenez non se ne va, Gimenez non se ne vuole andare, non può essere tesserato un extracomunitario, però si sta cercando di trovare un passaporto italiano, portoghese a questo ragazzo per farlo diventare comunitario. I genitori di Bueno sono già stati a Bologna, hanno visto la città, hanno visto dove potrebbe vivere il loro figliolo, quindi la notizia di Bueno è rigorosamente vera. Poi cosa vale questo Bueno? Doveva essere un fenomeno, anche quel Rodriguez non lo è. Si spera che sia un altro bel colpo tipo Ramiret. Parlando del mercato del Bologna ci sono delle novità non tanto per Rubin che dovrebbe essere qui a ore e nella presunzione che sia migliore di Morleo, se no l'acquisto di Rubin non si spiega, ma pare che sia molto probabile, e questo è un discorso veramente importante, l'arrivo dell'interista Castagnos, seconda punta. L'Inter e il Bologna sono già d'accordo al 101%, si tratta di vedere se Castagnos accetterà la destinazione Bologna e il risponso si avrà nelle prossime ore. Ci fermiamo ancora per qualche minuto per un'altra pausa pubblicitaria. Di nuovo in studio con TG, c'è solamente il tempo per andare a rivedere i titoli principali di oggi, il nostro telegiornale si è aperto con la cronaca, un mix di eroina e alcol potrebbe essere stato questo, uccidere Andrea Rapanotti, il 28enne trovato morto all'alba di Capodanno nell'area del Parco Nord. Nella stessa zona e sempre la scorsa notte è stato accoltellato un tunisino. Bologna perde in un colpo 20 posizioni e scivola al 40esimo posto, brutte notizie dalla classifica sulla qualità della vita pubblicata da Italia Oggi, ma sorprende il fatto che poche settimane fa un altro quotidiano aveva piazzato la nostra città in vetta alla graduatoria. Il personale amministrativo scarseggia e i computer sono di seconda mano, in questo modo il lavoro dei magistrati viene rallentato. A lanciare il grido d'allarme è il procuratore capo di Bologna, Roberto Alfonso. Un vecchione di Capodanno con le sembianze di Berlusconi ha fatto scoppiare la polemica a Ozzano Emilia. Il PDL non ha gradito e adesso il caso diventa nazionale, pronti un esposto e una interpellanza in Parlamento. Il bel tempo non aiuta a migliorare la qualità dell'aria, il comune di Bologna ha confermato il blocco del traffico previsto per mercoledì 4 gennaio, colpa delle polveri sottili, il cui livello limite a dicembre è stato superato 4 volte in 6 giorni. E con i titoli è davvero tutto, grazie per essere stati con noi, una buona serata dalla nostra redazione. Arrivederci.